Yuki a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Buzz che ci porta la sua tech profile di Pendolo. So che il Pendolo è un po' per gente cancerogena, però nel senso lui è fatto così e bisogna apprezzarlo in tutte le sue societature. Un saluto a Durso. Anche a Cree, già che ci stiamo. Aspettiamo i commenti sotto o gli insulti sul gruppo. Detto questo, spiegaci un po' Pendolo. Perché? Tanto il mazzo è sempre stato un build a board combo classico. Più negate 5 più sei felice, anche se poi vedremo che la lista che si gira nell'ultimo periodo è un po' diversa. Finalmente ha preso un po' dei supporti dopo anni di ingiocabilità, sia da Double con i Magi Spectre, sì, i Draco Slayer nuovi, un Magi Spectre, un Dynamist e un Ignite, sia poi con Beyond e Pendolo. E vabbè, non sarà Electrumite, però intanto fa il suo. E stranamente in questo meta di TR0 e TR Shizu sicuramente forte, col fatto che il Pendolo Magi Spectre ci permette di andare tutta ora a terreno generica, quindi Necro Valle, o se non si gioca Necro Valle, accesso comunque a Dweller, più delle board veramente difficili da dare a G1, comunque se l'è cavata. Infatti, poi peraltro l'ultimo WSS è arrivato in top 16, che diciamo niente non è. Quindi non mette TR0 e... E niente. Iniziamo la profile, intanto dei Draco Slayer, 3x di tutti quelli nuovi, non c'è tanto da spiegare, tutti e tre sono fortissimi, Magi è la più forte in assoluto, l'effetto di scala ci permette sia di giocare un gioco di risorse contro contro, lo gioca sotto mina e prendere un Pendolo tutti i turni che è forte, e poi l'effetto di quando è scato specialmente da un mostro Draco Slayer è quello che permette al masso di girare. Dynamite è un po' meno forte, ma comunque solido, in scala fa il suo, e molto spesso è quello che viene cercato da Majesty per andare a fare Beyond the Pendulum prima della Pendulum Summon. Ignis stranamente mediocre, anche se comunque in scala dice il suo, non male, ci permette comunque di avere altri nomi, cosa che c'è un bisogno spaventoso, perché se ne abbiamo abbastanza nomi di Draco Slayer, Majesty e Dynamite soffrono, e altre tre copie di Majesty, tutte quelle possibili sono tutte forti, poi Bumbuku c'ha vari punti di forza, intanto cerca anche su special, a differenza di altri Pendolo che cercano normal, come Joker, è una scala 3, quindi sotto Beyond ci permette di spaccare due quando andiamo a fare Pendolo, che è forte, e poi puoi cercare se stesso, che è sempre una cavolata, ma a certe volte torna utile. Due Charge, sono altre copie di Dynamite, se potrebbe giocare tre come se potrebbe giocare una, secondo me due forti più che altro, perché la differenza è che briccare su più di questa, a differenza magari di più di un Pendolo, la seconda è completamente morta, si ok di Scar di Majesty, però un po' pesante, quindi se si evita è meglio. Poi, questi, Supremi, Revolution, Sercini, per i vari target Drago, ce n'è un altro, proviamo dopo, quindi comunque contano come sia Draco Slayer, contano come entrambe le scale, Serciabili da Sky Iris, che è fortissima, e l'effetto in scala è mostruoso, perché più avanti, durante la combo, se avete un terreno, poi vedremo, recupera varie volte Ignis Phoenix, che non è, vabbè, il Syncro 8, che non è Once, questi devastanti cercano, ci fanno partire Ignis e poi su Tuner che ci servono, questi sono un po' un Brick, che per sé, sono Pendoli, quindi se ripescate state tranquilli, però non fanno granché, ci aiutano a pulire qualche combo, qualche mano un po' clanchi, difficile gestire bene i Master Pendulum però sono forti, a due perché tante volte sotto l'Aster puoi cercare il secondo dopo la Pendulum, se non c'è la Normal e se è briccato che è forte, poi infinite monocopie, Monkey, che se cercate Beyond, un 60% delle mani, Joker, che è un'altra Normal forte, ci sono delle line in cui si fa Beyond senza Normal, si mette in scala Monkey, si prende, si pendola, poi si prende Joker, Normal Joker, prende Revolution e si fa combo da lì, che permette di sbrickare alcune mani, questa è una carta che fortunatamente per oggi mancava, che non se ne trovano in giro, che è per forma Pal o da Synchron, che è un livello 2, che su un Armolo Special, special ha una delle scale ed è la combo per fare Barone con Monkey Board, poi ci arriviamo alla fine. Un altro pacchetto piccolo, Armo, vuole un Brick, in questo caso addirittura due, perché Celestial è anche target di Monkey Board, ed è praticamente l'unico target decente in scala, quindi se vi servono due scale, cercate Celestial e ci avete entrambe le scale, e poi su Board è forte, e fa Asafot, se avete un Synchro la gente non lo sai, ci perde due a caso, e poi un altro paio di monocopie, Eccentric, toglie Mina, sia la vostra che quella dell'Hoppo, e su Pendolo fa partire Beyond e poi spacca uno che è solido, il Cancro, perché Falce non è ancora in formato, ma questo è Falce ma meglio, se porta di sfere da extra, o se addirittura si norma la certa line, perché si cerca di Revolution, difficilissimo adottare sotto fusione Draco Slayer, questo è un Brick, se pensa a tagliarlo però è solido, con quasi tutti i Draco Slayer va più due, però non ce n'è un vero bisogno, per ora è ancora un po' sperimentale. Adesso le terreno varie, vabbè, le due per la combo, Iride è in più, spesso vi trovate, mettiamo tutte va, spesso vi trovate con Terraforming in mano, o con Necrovalle in mano, che è quello che chiude la combo base, e siccome vi trovate su una delle due, Target Search in più di Magia stia forte, nel caso specifico Iride è sicuramente l'altra migliore, perché tanto non si potrebbe giocare roba come Villaggio di Speccaster, poi c'è un paio di Thatcher in più, delle carte che non ho giocato ma che si potrebbe giocare, però nasce il problema che ovviamente, siccome sono entrambe in handboard e potete tenere soltanto una, bisogna fare una scelta a turno zero di cosa cercare, non è proprio il massimo, e quindi ovviamente, a parte che Iride è fortissima, perché prende Revolution, fa permettere di estendere veramente tanto, però a prescindere altri target di terreno non me la so sentita, poi vabbè Mina è devastante, se potrebbe giocare set rotation più Mine, come ha fatto il ragazzo che ha fatto topo all'ultimo YCS, a me non fanno impazzire più Mine, sì è vero che sotto ve la cavate, con Majestic prende valo tutti i turni, però se ti è risciso vi fa un Heartbeat al bar, diretti, e poi le carte non pendolo, questi perché sono forti, e poi Magnamut cerca Revolution che è mostruoso, cerca anche Laster in realtà, che non è terribile, però è anche amorfago, però di base comunque cerca Revolution, che poi cerca tutti gli altri, Druidon perché serve un target, e i Ferrir sarebbe da gioco a tre, questi c'erano però, la lista worka con due o con tre, la cosa particolarmente forte di Ferrir è che fa speciala, a turno uno, effetto aggiunge il secondo, poi fate normal di un pendolo qualsiasi, Beyond, e una volta fatta Beyond, quando andate a fare pendolo per Majestic, io la portate da mazzo con sincro Draco Slayer, il secondo diventa il discard per la terreno, fortissimo, e poi un paio di carte che non ho portato, ma ci si può riflette, Villaggio, Landboard alternativa, anziché finire con Necrovalle, finite con Villaggio, Dweller, Apollo da due, che potrebbe diventare Evely Spheres, vanno bene entrambe, Fusione Draco Slayer che protegge, uno Spellcaster, e Dweller più questo, buona parte del meta esplode, più anche Apollo, più volendo anche Falce è inautabile, e poi i sercini per Ignis, se volete giocare un engine, Draco Slayer un po' più grosso, e magari tagliare un po' dei monopair, tipo Magician, o addirittura tagliare alcuni dei performapal, o anche non giocare Mino, o Ferrero, o quello che è, queste sono sercini in più, d'extra, vabbè, poi, vabbè, uno e due, questi sarebbe la carta degli dei, ma non tornerà mai, se tornerà le combo diventano 200 volte più pulite, cercate 25 pendoli per turno, lo rievocate con Zealantis, lo rievocate con mille e milla modi, ma magari, comunque Beyond, che è Electrum, ma è dei poveri, fortissimo, quasi tutte le combo passano per Beyond, cerca quasi sempre, o Monkey Board, che poi cerca Synchron, o cerca Crobat, che cerca Revolution, o cercate Armo, se vi servono due body, poi, Selene, serve a fare Inclimbing, serve per specialare, per forma o pallo da Synchron, se avete già fatto la Normal, però è comunque una carta forte, a prescindere, ah, e peraltro, è vero che è special da cimitero, ma sotto Bystead è difficile, quindi la maggior parte a volte è speciale da mano, oppure fate delle line, in cui si passa per Magister Paladin, ve lo linkate via, mettete a cimitero una Majesty Maiden che è evento, e quindi sopra i Bystead è comunque risolvete Selene, quindi anche sotto Mesa Bystead o Isshizu, comunque gestibile, comunque spesso speciale da mano, quindi Isshizu non fanno niente, questo serve per la combo fortissimo, resetta tutti i Dracoslayer, che non sono volto per turno, quindi forte, e questo è l'handboard, parte integrante dell'handboard, poi permette di portare a Morphage sull'offe da mazzo, il Barone, eh, signori, che c'è da di tutto, 100€ di carta per un motivo, questa carta qui che non ha visto mai nessuno, ma scacazzata da Double, ma è una bestia, cioè una bestia fortissima, quello è una finita carta 3, esatto, non la posso giocare in macchina, la line forte, specialate, o da Selene, o addirittura Normal, o da Issy, performa, performa, o da Issyncron, Normal, effetto su Monkey, speciala Monkey, fate Issyncro questo, questo fa effetto, riporta lo dice che avete sincrato via, e poi con questo lo dice fate Barone, ci avete Barone con monocarta, che è forte, la Gusca, parte di alcune handboard, in base a come aprite, in base a contro cosa siete, contro Flander è bestiale, e già anche solo per quello starebbe dentro, in più se è briccato, se è tancato tante HT, spesso non riuscite a fare tanto di più, deve fare magari questa più necrovale, che comunque il suo lo dice, poi le carte migliori, beh, che dire, poi, che capolavoro ulti, impagabile, bellissimo, io ho detto io al Durso di comprarle, perché stavano salendo, per me, era mia quella del Durso, l'ho presa io, è proprio lei, quanto te l'ha fatta? 25, quando stavo a 25? testa di calza, io gli ho detto di comprarla, quando stavo a 7, giusto, allora che dire su Stenjin, Magister Paladin, di per sé non fa niente, durante le combo, ma cerca in hand, e spesso cercate o il Joker, se non l'avete usato, perché magari il tour dopo, Normal prende Revolution e fa la scala, ma molto più spesso, l'Archfind Eccentric, che a turno 2, cioè a turno 3, permette di fare veramente tante cose, Dauta, roba che è rimasta, se non avete chiuso, eccetera, anche se la Dauta è la vostra mina, che c'è da dire sui Knister Prominence, è devastante, è fortissimo, questa è la carta che fa girare il mazzo, invece ha un ammazzolo una volta per turno, shuffla senza target, quindi leva roba come Root Callos, veramente gratis, è riciclabile infinite volte, con Revolution e Sky Iris, è una carta mostruosa, e The Noster Power, c'ha due effetti, stranamente, cioè due effetti di peculiarità, il primo è il fatto che tributa per Contact Fuse, quindi finalmente fa partire la Nomad Knight, che è gratis, e il secondo è il specialare che è ok, ma soprattutto il fatto che proteggi, mostripendo da essere spaccati, i defetti di carta in battaglia, quindi nell'handboard, questo qui rimane in difesa, diciamo un po' come un brick, però sia la Morphago portato di sfere, ma se giocate la line con villaggio, anche la Majesty sotto villaggio, la Tron Magician sotto villaggio, diventano difficilissimi da autare, senza passare per spell, e comunque sotto a polla e altro, quindi questo è fondamentale, e poi le rimanenti quattro carte, in realtà è che sono straflessibili, non lo so, non c'è niente che è obbligatorio giocare, io gioco questo, come pacchetto, perché secondo me unicorno, Axe Squad veramente alza tutto, soprattutto unicorno, veramente forte, toglie i tier senza che partano, toglie Mirror Jade, se beccate d'Espia, cosa che ha il mio locale pieno, e che è un capolavoro, e Axe Squad, vabbè, push up per chiudere, in realtà Axe Squad non è per niente obbligatorio, ce la fate senza, però comunque un modo da andare sopra le torri, vi serve, perché non ci sono tanti ciccioni enormi, in questo mazzo, quindi magari se non giocate Axe Squad, una Goddess, o un Dugares, adesso so una buona idea, se avete paura delle torri varie, è Dark, perché c'erano slot libero, era tra questo, è una carta che sta qui da parte, un'alternativa, uno vince in tempo, però si può giocare side, perché tanto spesso Giuno non fa assolutamente niente, la cosa forte di Dark, con Axe Squad è che molto spesso, permette di fare l'inclimbing, anche se siete passati per, maschere unicorni in handboard, perché ovviamente, dopo vediamo la tema board classica, per semplicità, però tante volte, finite con un materiale in più, e quindi questo diventa gratis, e magari unicorno già l'avete passato, e comunque fate un Axe Squad a 4-3, che non sarà l'Axis Squad più grande, ma è comunque solito, per vedere com'è la handboard base al volo, spesso finite su questo, questa è l'handboard classica, che sembra un assuming, ma fa malissimo, e vabbè Barone, no Omni, niente di che, Necrovale spegne praticamente TR più, qualsiasi roba con i Bystead, anche Dragon Link gli fa malissimo, Zelandison Brick può anche non esserci, e Sigillo, porta nel turno dell'avversario, intanto Bounce ha uno che, non si butta via, poi porta Amorphago, Amorphago dice fondamentalmente, fare effetto di falce, finché è scoperto sul terreno, e entrambi i giocatori, e ovviamente questo non c'è più, seppurla di Amorphago, e Dinosaur protegge Amorphago da battaglia, effetti delle cate, quindi G1, a meno che non state sotto ruler, difficile, volendo, questo Zialantis, può anche essere linkato via, per qualsiasi cosa, anche banalmente una Dark, se avete un materiale a caso, diciamo gratis, perché almeno non state sotto Spoli, se avete paura di Spoli, nel meta che vi trovate, perché ovviamente questa è acqua, quindi confligge con Zelandis, comunque, se avete già portato Amorphago, Spoli non entra, però se andate in Drodeloppo, e fa Spoli, questi partono, e poi vi fa, non so, special qualcosa, effetto Sfere, entra Amorphago Battle, invece va sopra, e comunque Mari riesce a alzare la board, quindi se vi capita, potete alzare Zelandis, peraltro, una line più comune, se avete paura di Spoli, prima di fare Sfere, che si fa con, un Ignis che rimane più un mostro, da mazzo, poi adipo Drago, fate effetto Ignis, vi spaccato una scala, e questo ve lo sciafflate via, e finite esattamente la board, senza Ignis e Spoli, non vi tocca, Ruler fa poco, se sotto Necrofria giocate, ovviamente contro Tier, comunque deve alzare prima Necrovalle, poi magari fa Ruler, però comunque fa male, Droplet, praticamente niente nella board classica, perché state così, e non portate subito, ovviamente Amorphago, e quindi se deve partire di Droplet, comunque Sfere porta Amorphago sotto Droplet, e quindi comunque decente, Necrovalle, e, evenly, di solito stiamo in barone per evenly, l'alternativa a giocare Necrovalle, che dicevo prima, se volete provare, è giocare con Villaggio, cosa che io ho testato veramente a lungo, ed è solido, diciamo se volete fare una combo, che non passa per Necrovalle, magari a local non avete Tiarishizu, o preferite finire con Dweller, per infiniti motivi, potete provare con Villaggio, quasi tutte le combo, poi quelle basi sono due pendoli, due Draco Slayer, più un discard, finite così, questa è la board base, e Apollo ha da due, spesso, se avete un paio di materiali in mano, in più, un paio di pendoli in più, o anche uno in base a che pendolo è, se avete, magari, Monkey, Board, Astrograph, eccetera, potete finire, questo sarebbe un, Borrel Savage, che adesso non ho dietro, perché l'intera lista stava giocando con Necrovalle, un Borrel Savage da due, e sta board qui è, peculiare diciamo, generalmente, molto molto più forte, però ovviamente, il meta Necrovalle, la soffre tantissimo, siete fuori da evenly, Droplets, Poli, Ruler, non fanno niente sotto villaggio, a meno che non giocano Spellcaster, ma dopo che hanno giocato Spellcaster, è dura, e che vi beccate, tanta roba, e comunque, potete vincere anche sotto, lo Spellcaster è protetto, qualche volta, fate anche con più Spellcaster, se magari non fate Borrel Savage, fate con un secondo Spellcaster, qualche volta con numero 38, che è ridondante, però, se non fate magari con, le nostre power, vi permette di, di indirizzare gli attacchi, che non è male, o molto spesso, magari con Maschera, comunque qualche combinazione di queste, e poi in generale, la realtà è che il mazzo è, molto flessibile sull'handboard, dipende tutto da cosa ci avete, cosa preferite, perché, il terreno potete cercare letteralmente tutte, queste sono quelle classiche, che si finisce adesso, ma potreste finire su, mondo zombie contro Flander, infatti, decide, un paio di carte consigliate, so sempre, una Riadne con, tre solenni, uno scolding, se, volete, andare sopra, magari a email, di certe difficoltà, un paio di mondo zombie, anche più di uno, anche tre volendo, perché sono sacciabili contro Flander, se lo pescate, lo spegnete, e, e poi vabbè, l'Archidemone, Scarlight, se non lo giocate di main, decide mandatorio, perché, perché vince in time, e sto masso, c'è la difficoltà a vincere in time, perché, per chi non lo sapesse, Beyond brucia 1.2, su entrata, e 1.2, a differenza, magari, dei 500, 800, sono difficili da rifare, con le carte classiche, per il time, e, potete giocare anche, magari, Spooky Dog, se volete, queste cose qui, però, di fondo, comunque, Mono Scarlet, obbligatorio, comunque, tornando a noi, dicevo che le board, sono veramente flessibili, potete cercarle tutte, questo è un esempio, c'è appunto, c'è Mondo Zombie, Sky Iris, se volete fare una board, che non finisce con un terreno, ma ha più consistenza, con i mostri, magari, anche addirittura, e rinunciarono di queste, ci sono delle line, in cui cercate, discolosso d'Etherion, Bull, nelle liste, Ignite, diciamo, Dragon's Day e Ignite, perché passate per, Sublimation Knight, con Squeak Knight, per fare, prima, Isolde, poi Beyond, e Bull riprende, Squeak Knight, quindi è un doppio body, con Mono Terreno, che peraltro, poi, a fine board, può fare sincro 8, e te lo sono tante, le handboard possibili, sono tante, perché, questo è gratis, Apollo è quasi sempre gratis, Dweller, è praticamente gratis, avete veramente tutte le possibilità, quindi in realtà, è anche un po' da, da sperimentare su questo, io come dicevo, mi sono trovato bene, sia con Villaggio, che con Necrovalle, con le due handboard, quelle che avete visto prima, generalmente, perché, questa carta qui è fortissima, e Necrovalle da sola, meno, ma con questo, più amorfago, è un mostro, però ecco, in generale, le handboard, l'avete viste, poi, giustate quello che vi pare. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto, e fatemi sapere, qua sotto con un commento, cosa ne pensate del mazzo, della decklist, e anche di lui, già, nel senso, lo rivolete? Speramolo no. Tanto, ormai del fluffa, non, non, te tocca, sei rimasto incastrato. Sfortunatamente. Portato il mazzo, si fa la decklist. Detto questo, vi ricordo come sempre, che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner, trovate il loro store qua sotto, in descrizione, e con il codice sconto, 2022 cappello, potete ottenere il 10% di sconto, sul cartesingolo, o prodotto sigillato, che non è soggetto ad altre offerte. Inoltre, qua sotto trovate, anche Twitch, e nel caso, se volete liberarvi di carte singole, o prodotto, no, di carte singole, senza prodotto sigillato, o ritiro praticamente di tutto, mandatemi le foto su Instagram, che nel caso, se ne può parlare. Lui mi ha detto che, dovevo stare tranquillo un pezzo, però, lui è ludopatico, io pure, quindi non, non fai testo. Fortunatamente, non c'è un'alternativa. No, se compra sempre. Quando il corpo chiama. Detto questo, ragazzi, state mesi, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.